Sarei inaugurata giorno 25 gennaio alle ore 16 nella Sala Conferenze della Camera di Commercio la quinta edizione della Scuola di Liberalismo Laudink-Worm-Mises. La presuncissima iniziativa è organizzata dalla Fondazione Vincesto Scoppa e dalla rivista Liberamente, in collaborazione con l'Università Studi della Magna Grecia e dalla Camera di Commercio. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede dell'ente camerale catanzarese. All'incontro con la stampa sono intervenuti Paolo Abramo, Presidente della Camera di Commercio, Sandro Scoppa, Presidente della Fondazione Vincenzo Scoppa, Maurizio Buonanno, Direttore della rivista Liberamente, Andrea Porcello, dell'Università degli Studi Magna Grecia e Vincenzo Valente, Presidente dell'Ios Club Cropani-Botricello. La Scuola di Liberalismo, come spiegato dal Presidente Scoppa, è un corso di formazione politica in dieci lezioni, aperto a tutti e gratuito, che si propone di analizzare, studiare e diffondere in Calabria il sistema di principi del liberalismo classico, forrendo ai partecipanti nuovi strumenti culturali utili per l'interpretazione delle dinamiche sociali.